Ritrovate, ma che bel campionato, gli dava già per due squadre favorite, no, è il campionato, beh insomma ci sono le prime 4-5 squadre in pochissimi punti, sento qualcuno già che rido, io questa sera so già che starte l'esimio conduttore di dire una cosa del genere in diretta a me, ancora con queste prese in giro, con queste perculate. Chi è il procuratore di Romagnoli? Se non ha rinomato il suo tempo sarà sicuramente per le pretese alte di Raiola. Il Labri ha centrato, cioè anche l'atteggiamento, una squadra come Napoli che si abbassa in questa maniera e sta lì ad aspettare il Sassuolo, sicuramente è proprio un messaggio sbagliato che dà. E questo allenatore, quindi Simone Inzaghi, con la prima stagione magari di Conte, dove magari non gli era richiesto così, tanto come è stato richiesto. Non lo so perché comunque stia a frega. No, esatto, non lo so, ma devi essere sempre in polemica, stasera mi stai attaccando. No, attacca tutti, attacca tutti. Sì, è veramente, bisogna mangiare, è acido. Esatto, sì, esatto. Ti dici ce l'ho questa sera. Ti dici anche Buonaventura dietro di te che ti sta mandando a quel paese. È vero, sì, è leggermente... Oggi c'erano su tutti i commenti, vabbè. È leggermente avvirato. Grazie a Luca.